Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo alla risoluzione sul tuo schermo quindi sul tuo monitor e cambiare così la frequenza di aggiornamento sul tuo monitor migliorando anche la risoluzione anche quando giochi o stai registrando oppure stai lavorando sul tuo computer quindi in questo caso per quelli che si ritrovano un monitor da facciamo caso 165 Hz come il mio oppure da 300 Hz però se lo ritrova a lavorare con 120 Hz oppure 60 Hz non riesce a portarli così a quella frequenza è possibile così creare la propria risoluzione oppure modificando tutto nelle impostazioni di Windows quindi andiamo un attimo sul nostro pannello di controllo di Nvidia per quelli che hanno Nvidia andiamo direttamente tasto destro sopra quindi pannello di controllo Nvidia modifica della risoluzione come puoi vedere io devi mettere su PC 1920x1080 io metto questa risoluzione perché questa riesce a sopportare così il mio monitor velocità di aggiornamento 165 Hz se non dovesse funzionare possiamo direttamente andare su facciamo un attimo su modifica della risoluzione di nuovo faccio così applica mantengo così la risoluzione faccio su personalizza ed eccola qua crea risoluzione personalizzata pixel orizzontali che sarebbero questi 1920x1080 che sarebbero questi velocità di aggiornamento tu metti la tua quella che il tuo monitor riesce a sopportare io metto 165 Hz tipo di scansione metti progressivo basta e fai prova risoluzione doppia ormai questa già esiste quindi non devo fare nulla qua e chiudo se invece la tieni su Ultra HD 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 7 tipo per esempio 1080x1920 velocità di aggiornamento 120 Hz quindi tu da questa qua devi mettere questa qui del PC per cambiare fino alla risoluzione massima e fai applica chiudiamo un attimo qua questo era per il monitor Dell puoi farlo su tutti i monitor una volta fatto imposta anche il G-Sync se il tuo monitor supporta del G-Sync quindi abilita per la modalità schermo intero quindi abilita il G-Sync e basta chiudi qua tasto destro sopra impostazioni schermo scendiamo fino a giù fino a trovare così impostazioni schermo avanzate questo è il mio monitor scegli una frequenza di aggiornamento ed eccola quindi da 50 Hz metti la tua risoluzione massima di frequenza di aggiornamento 165 Hz torna indietro risoluzione dello schermo ed eccola qua da che ne so 1600x1024 metti la risoluzione massima scelta consigliata per quelli che non hanno il pannello di controllo di Nvidia puoi usare questo per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide al riguardo in alto a destra c'è un'altra guida su come personalizzare la frequenza di aggiornamento che ho fatto tanto tempo fa quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao